salve a tutti bentornati su terre siciliane oggi siamo di nuovo in compagnia con barbara banco che qui con noi ciao barbara come stai ciao a tutti sto benissimo e come sempre quando siamo insieme si sta si implementa si cresce tutti insieme grazie a tutti e un abbraccio anche da lontano bene grazie a te barbara oggi la puntata si intitola sostenere l'umanità avevamo pensato di fare questa puntata parlando di un tema annoso di cui si discute da tanti anni che è quello dei civac in generale del civac italia in particolare noi li abbiamo invitati a partecipare a questa diretta per poter avere anche il loro punto di vista su questo argomento ma hanno declinato l'invito a partecipare tendoci a sottolineare che non vogliono avere nulla a che fare con con noi e io sono la nazione e quindi comunque a noi dispiace perché sarebbe stato molto più interessante poter discutere insieme a loro di questi aspetti però questo non toglie del fatto che ne parleremo comunque grazie a te barbara e così anche raccoglieremo le domande di chi parteciperà sull'argomento però non parleremo soltanto di civac italia vorremmo parlare di soprattutto di accesso diretto al valore di quello che è appunto successo negli scorsi mesi vorremmo parlare di gratuità e vorremmo parlare anche di quello che faremo da qui in avanti giusto barbara è giustissimo anche perché sul civac abbiamo parlato già questa domanda ricorre perché ricorre perché questo civac nation italia che è un'enclave in grandi linee c'è un luogo dove dentro il territorio di una nazione dove ivige un certo ordinamento politico e ordinamento anche giuridico dove in quel determinato territorio quindi in quelle enclave insiste invece un altro ordinamento giuridico un'altra legislazione questa è l'enclave quindi grandi linee civac nation in italia un enclave in italia c'è un luogo dove vige un'altra organizzazione un'altra legislazione un'altra un altro ordinamento giuridico ora partiamo dai civac quelli di eter giù partiamo da eter perché voglio dire penso che tutti noi siamo d'accordo su una cosa che lei sicuramente tutte le azioni che ha fatto le ha fatti seguendo una logica un piano assoluto eter è stata talmente minuziosa nelle sue cioè voi dovete pensare che chi non lo sa che nei documenti di eter eternal essence che è scritto tutto maiuscolo sotto nella nelle spiegazioni lei lo scrive minuscoli tutto minuscolo non alternato minuscolo quindi non ha lasciato niente al caso niente parliamo di cosa eter ha pensato e ha depositato quindi l'ha messo su carta dei civac intanto cos'erano i civac erano centri di valutazione del valore adibiti uno per nazione adibiti alla restituzione dei 10 miliardi quindi la restituzione alla gente possiamo fare un passo indietro ancora tutta l'azione o ppt tutta verte sul ripristino della legge naturale quindi quelle quel proprio quella legge usurpata stabile infatti lei i documenti alcuni documenti li trasforma a uilo cioè li fa diventare ordinanza che vuol dire un'ordinanza di legge universale internazionale non soltanto internazionale ma universale intanto ci fa capire che c'è qualcosa di più grande cioè questo sistema chiavistico non è proprio solo qui se lo chiama universale ci sarà un motivo no e soprattutto verte tutta l'azione o ppt alla chiusura alla preclusione di tutte le entità governative bancarie e vari eventuali che schiavizzano pianeta che schiavizzano gli uomini del pianeta quali sono gli strumenti del civac si va che doveva essere instaurato in ogni nazione fatto da uomini che poi chiaramente interagivano sul territorio poteva essere fatto itinerante poteva essere fatto fisso poteva essere semplicemente un cappello un po' come una proiezione di io sono no poi dove dove tutto andava poi in applicazione non sono stati applicati non perché eter ha deciso che voleva cambiare l'idea che gli aveva dato all'inizio sono stati applicati perché avevano tre mesi di tempo di applicazione quindi eter aveva dato tre mesi a tutte le entità dentro la sec per applicare uno per paese uno per nazione i civac non è mai stato fatto e quindi i civac cadono decadono come tempistica ok non sono stati applicati e non sono stati fatti sì peraltro scusami apro una parentesi proprio perché nel in uno dei documenti che noi inviamo c'è o ppt siamo legalmente liberi ecco come che come sai è un allegato che abbiamo mandato nella prima pecca eccetera c'è proprio una una nota in questo documento che proprio fa accenno a questa chiusura dopo i tre mesi no che sarebbe stata diciamo la 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 scadenza la deadline del del funzionamento di questi civac che dovevano occuparsi della redistribuzione del valore eh di eternare l'essenza diciamo agli abitanti della terra ecco questo era lo scopo originale lo scopo era redistribuire ora cosa succede lo sapete tutti cosa è successo nel duemilatredici attenzione eh il primo presidente del civac nation italia mi piace ricordarlo perché l'ho conosciuto un uomo di una grandissima integrità si chiamava Giorgio Bionaz Giorgio Bionaz autodeterminato autodeterminato già da tempo amico anche di Aether perché Giorgio ce l'ha avuto a casa Aether che vuol dire che Aether ha vissuto in Italia per diverso tempo una parte del tempo l'ha vissuto in un chalet in Val d'Aosta una parte del tempo l'ha vissuta a Aosta proprio dentro la casa di Giorgio Bionaz che tra l'altro eh all'ultimo evento in Val d'Aosta era presente e ha parlato ok quindi Giorgio è un uomo veramente era con mio grande dispiacere un uomo veramente integro mi ha raccontato tante cose di Aether ve lo potete immaginare l'ha vista l'ha vissuto una delle delle chicche che ho raccontato ultimamente sul fatto che Aether dopo quattro anni che aveva scritto i documenti di io sono Giorgio proprio lui me lo racconta mi fa vedere i documenti a Aether e Aether se li legge e dice l'ho scritti io ma questi l'ho scritti io e Giorgio sorrideva perché cioè era chiaro che Aether non era una donna normale facciamo così ok non era proprio una donna non lo è ancora oggi una donna nella norma ok perché quello che è riuscito a fare dentro il sistema prevedeva che fosse comunque anche nella 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 nascita dove è nata quando è speciale ok non è speciale più degli altri è semplicemente la specialità del suo compito c'aveva questo compito l'ha portata a termine egregiamente non ci sono dubbi su quello che voleva fare l'Aether ha chiuso tutto cioè quale dubbio oggi io posso avere sul fatto che Aether non ha mai lasciato aperto la SEC non ha mai lasciato aperto il tribunale dell'AIA non ha lasciato aperto la BIS perché l'ha lasciata solo a Granto l'attenzione è preclusa la BIS come tutto il resto perché gli iscriviamo perché è Granto perché deve pagare lei ok perché deve dare lei l'ordine di pagamento ha chiuso l'ONU allora andiamo ancora ad analizzare cosa fa dopo aver fatto tutto questo da sola perché siamo al 23 gennaio ok 2013 da sola non ci sono firme né di Kaleb Paul Skinner né di Randall Irner sull'ultimo deposito di OPPT che sono tre strumenti sono tre documenti depositati il 18 marzo 2013 all'atto della chiusura definitiva di One People Public Trust 1776 questa è la fine della procedura dove lei da lì in poi comincia a creare i documenti di AI AI ha sia la dichiarazione di Wilden World of AI ha anche la DOD di AI aveva anche la DOOR e anche la DOC sempre di AI poi successivamente nel 2014 arrivano i documenti di AI che sono identici grandi linee non identici nel senso vero perché se leggete l'AI e leggete il prologo dell'AI e il prologo dell'AI vi rendete conto che c'è una differenza sì c'è che ci sono diverse differenze un conto è io sono io un conto è io faccio io capite che sono due cose diverse no? è l'essere e fare il being and doing di cui parla being I doing I am ok? è sempre facendo ora chiude tutto fa l'I am fa l'AI che in Italia arriva nell'ottobre del 2013 qualche giorno prima del T-Rain queste cose le ho già raccontate ma giù le riracconto per avere una contezza di quello che è successo e durante questi anni questo anno un po' speciale del 2013 perché poi il 2014 io appena sono stata buttata fuori ho continuato per un po' sul mio profilo Facebook poi ho chiuso Facebook che poi nel tempo si è riaperto anche da solo ma li lasciamo perdere quindi non pensate di che si chiude Facebook perché non si chiude manco se gli dite che non tornerete più ma io ho seguito ho visto ma ho anche cooperato e collaborato ok? sono arrivate diverse di cose è arrivato un toolbox che cos'è? era un documento che sembrava lì per lì scritto da Ether sembrava ok? sembrava scritto da Ether e ci diceva come accedere al valore wow fantastico meraviglioso ma poi abbiamo cominciato ad avere dei dubbi su alcune cose che c'erano scritte che andavano in netto contrasto con quello che Ether diceva tanto che poi abbiamo chiesto alla diretta interessata se era suo Ether nel 2013 era presente cioè c'erano le chat americane dove chiaramente si entrava di notte perché c'era uno spostamento di fuso orario che ci impediva alle 10 della mattina qui in Italia di parlare con loro ok? ma poi seguivamo le chat e parlavamo con Ether in Skype ok? quindi è vero che Ether ha seguito queste sono parole di Giorgio Pionazzi che ripeto oggi non è qui più con noi erano momenti in cui Ether ha seguito diverse situazioni che si muoveva in Italia ha seguito anche Patrizia Pace ha seguito che tra l'altro inizialmente era vicina al SIVAC poi si è allontanata totalmente così come Giorgio Pionazzi che era il primo presidente del SIVAC National Italia lascia la sua carica per incompatibilità di intenti così lui mi dice poi tutto ciò che gira intorno a questo SIVAC che è quello che è in piedi adesso è molto fumoso perché? perché nessuno può accedere alla documentazione che loro hanno anche se non è così basta che andate sul Country Fusion e scrivete Country Fusion e scrivete SIVAC National Italia vedrete che troverete un sacco di interessanti cose perché verrà fuori tutti i depositi del SIVAC in questi depositi si evince chiaramente che la proprietà del SIVAC National Italia è di Andrea Daga che è Andrea Daga vicepresidente al tempo di Bionazza oggi presidente del SIVAC National Italia si evince dai documenti io non sto inventando niente potete andare a controllare da soli ora le prerogative di questo SIVAC quello che si chiama SIVAC ma che con col SIVAC di Aether non c'ha niente a che vedere sono le prerogative come dicevamo prima di un enclave cioè ci penso io a gestire non è questo che voleva Aether Aether è stata molto chiara potete rifare gli stessi governi potete fare governi diversi o non avere nessun governo dove c'è scritto che sì nel 2 potete avere governi diversi ma non è che perché io ho fatto una cosa tutti devono fare quella cosa lì specialmente ripeto se non è in linea con la procedura OPPT se Aether ha chiuso la SEC e ha chiuso il Country Fusion l'ha chiuso domanda perché depositi nel Country Fusion quando quello nella procedura stessa che tu stai depositando è chiuso non gli stai dando di nuovo energia non gli stai dicendo che esiste non stai inficiando la stessa procedura che tu vanti di portare avanti sì la risposta è sì però ripeto ognuno fa quello che gli pare ora a oggi per entrare nel CVAC ci vogliono i soldi ci vogliono oltre mille euro la domanda è ma quando l'avete letto scritto che Aether ha voluto anche solo un euro di tutto il lavoro che ha fatto e già questo ve la dice lunga un'altra cosa molto importante che secondo me oggi è determinante da sapere perché sapete nel 2020 quando hai ricominciato tutto questo io ho fatto un giro di telefonato ho chiamato anche Valeria Gentili giuro ho chiamato pure lei perché perché intanto testare che cosa era successo in questi sette anni no in cui bene o male non ci siamo visti a parte con alcuni una di queste è Patrizia Pace che di cose me ne ha raccontate e non vi dico quante prima di andarsene così in maniera veloce e fulminea con un tumore alla testa parita nel giro di poco quello che io ho cercato di fare nel 2020 è di mettere insieme tutte le modalità di sovranità tutti i modi che abbiamo trovato per per trovare una quadra per cercare di metterci seduti e vi regalo l'ultima telefonata che io ho avuto proprio con Andrea Daga Andrea era convinto e diceva sì ma tu non hai fatto nessun deposito alla SEC quindi la tua IEM non vale niente questo mi ha detto e io gli ho risposto mi spieghi Andrea per quale motivo allora Eter non ce l'ha messo il suo da IEM dentro la SEC la risposta di Andrea Daga è stata Eter pensa sì ma Eter pensava al pianeta verde e la mia risposta è stata bene Andrea noi stiamo andando lì se vieni anche tu ci vediamo lì se no grazie e da qui non ci siamo più sentiti non mi stupisce che non non siano qua Joe non mi stupisce per niente perché non c'è stato modo di parlare cioè cosa voglio dire ce ne siamo accorti tutti che il sistema fa ostruzione vero fa ostruzione ah ma noi ci fa ostruzione perché noi abbiamo fatto tutto in legge naturale e non ci riconoscono giusto questa è una delle accezioni che sento più spesso siete d'accordo allora a parte che non voglio essere riconosciuta nel sistema schiavistico ma semmai voglio essere conosciuta mi devono conoscere non riconoscere semmai il contrario ma secondo scusate si va che nasce un'Italia è dentro la sé è dentro la sé quindi è riconosciuto dal sistema giusto? riconosciutissimo più di così come mai non ci sono risultati uguali? ci stanno sti risultati li voglio vedere i risultati perché noi ce l'abbiamo davvero i risultati dove stanno i risultati? non ci sono nessuno ha preso quei 10 miliardi dentro la sé che non li ha presi nessuno come mai? ah se ci siete visto che siete dentro Country Fusion e andate a guardare guardate quanti hanno depositato negli anni hanno cercato di prenderli hanno cercato di depositar notifiche di cortesia fatture hanno cercato di farsi riconoscere crediti e non crediti non c'è riuscito nessuno perché? perché come dire mi direbbe il mio nonno che vuoi andare a ruba a casa dei ladri? veramente vuoi andare a ruba a casa dei ladri? cioè non esiste l'unico modo che io ma anche il popolo perché poi io queste cose non è la prima volta che le dico sono tutte lì non è che è la mia interpretazione c'è scritto così nei loro documenti quello che hanno depositato andatevi lì a guardare vi prego andatevi a guardare perché li abbiamo tirati fuori ci sono se volete passo una bella cartella del vecchio work quindi pensate a quanto tempo indietro siamo siamo al 2020 2021 dove noi abbiamo ritirato fuori tutti i documenti del country class del Sivac Nation Italia li abbiamo guardati abbiamo capito e la domanda sotto ma allora che stanno a fare stanno facendo qualcosa benissimo non li voglio giudicare per questo ma non mi parlino di essere nel messaggio di ETH perché non è il messaggio di ETH il messaggio di ETH è tutto chiuso non è tutto attivabile perché ti fa comodo a te come dicevamo dal documento che accennavamo prima questi Sivac avevano erano stati messi in piede per una esistenza temporanea dei tre mesi giusto il tempo per la restituzione del valore ma che tu sappia i Sivac nel resto del mondo sono stati chiusi dopo i tre mesi che tipo di non ci sono stati mai non sono stati mai aperti ah neanche aperti no non sono stati mai aperti perché ci sarebbe stata l'ammissione che tutto era chiuso ma poi ci sarebbe qualcuno che almeno qualcuno avrebbe recuperato i suoi dieci miliardi di commercial bill ma non l'ha recuperato nessuno ancora oggi perché perché non abbiamo capito perché abbiamo continuato a mandare avanti il sistema in tutti questi anni perché parlava di due anni che cosa succede nel 2015 diverse cose sono confluite nel 2015 ma loro dal 2015 al 2024 ci hanno avuto tempo di riorganizzarsi il sistema si è riorganizzato perché io lo dico sempre il sistema si riorganizza nel sistema dopo fare dentro di riorganizzarsi non fuori tanto che il risultato più grande che il popolo ha ottenuto è stata la chiusura della DOD la chiusura della Doctrine of Discovery la dottrina della scoperta la chiusura della dell'usurpazione della legge naturale avvenuta a aprile di quest'anno è opera del popolo della nazione sappiatelo o meglio è opera congiunta anche del popolo della nazione per essere corretti dite di no dite davvero abbiamo fatto questo ma non ci rendiamo conto di quante cose abbiamo fatto abbiamo apportato valore continuo a questo centro che oggi ci sta cominciando sta cominciando a pulsare e a mandare valore all'esterno quindi questo era il CVAC il mio valore è lì dentro e da lì viene fuori ma non è questo questo non è la mission del CVAC non è questa la mission perché altrimenti si dovrebbe chiudere alla velocità della luce fai quello che devi fare e poi chiudi ma come si fa a sapere una procedura così bene perché tra l'altro il CVAC si vanta di conoscere e sono anche dell'idea che è così benissimo la procedura PPT allora se la conosci così bene come mai depositi dentro la SEC che è preclusa cioè ma questo è facile non è che devi studiare tutta la documentazione per arrivare a questa conclusione se t'ho chiuso vuol dire che nessuno mai più ci dovrà mettere niente lì dentro a cosa ci si attacca ci si attacca a una frase di Ether che dice che o meglio non solo una frase ma un deposito di Ether che dice che l'UCC è di Eternal Essence ma secondo voi Ether perché ha messo l'UCC a nome di Eternal Essence perché così lo possiamo usare noi cioè secondo voi preclude tutto per riduzione schiavitù attraverso quel diritto dell'ammiragliato che oggi si chiama UCC e poi dice vi lascio UCC così almeno gli schiavisti diventate voi lo segna a nome di Eternal Essence perché semplicemente non deve utilizzarlo più nessuno perché Eternal Essence non lo usa UCC non credo proprio che Eternal Essence è un UCC non so se vi risulta a voi fatemelo sapere eh capite allora per concludere il messaggio del SIVAC National Italia non è il SIVAC di Ether hanno usato i documenti di Ether sì li hanno usati come Ether aveva detto no un'altra delle cose che mi disse Bionaz e la do al popolo oggi così pure questa parentesi per me a oggi dopo questa bella chiacchierata Gio diventa basta gli dirò andatevi a vedere la zumba con terre siciliane così almeno c'ho anche la prova c'è provata che l'ho specificata più e più volte Giorgio Bionaz in una chiacchierata dove mi raccontò diverse cose compreso eh mi spiegò eh o meglio mi ricordò non lo so se un po' di tempo fa se vi ricordate inizio del 2020 covid eccetera eccetera la nostra Valeria nazionale come la chiamo io non è la Valeria delle terre siciliane eh la Valeria nazionale la Gentili Valeria Gentili disse tirò fuori una lettera di Trump la tirò fuori nel nella fattispecie per rispondere a questo noiaio sono vedete che non è OPPT che ha chiuso il mondo vedete Trump attraverso il popolo dei Morish che fanno una domanda a Trump in Parlamento al Congresso americano che non si trova non l'abbiamo mai vista questa questa lettera dove Trump risponde ripristineremo la dichiarazione di indipendenza del 1776 porteremo di nuovo l'oro ante 1933 e vedete e finirà la schiavitù allora lui firma questo foglio e ecco da dove viene la diciamo l'informazione che Trump era esecutore fallimentare di OPPT e quindi di tutto il World Bank lui si ferma in questa lettera esecutore fallimentare tutto minuscolo tutto in minuscolo non ha eseguito il compito a oggi Trump non ha eseguito il compito però proprio in una chiacchierata questa chiacchierata io chiesi a Giorgio ma i Morish siccome è in Marocco i Morish sono in Marocco e Eter è stata quasi un anno e mezzo in Marocco io ho chiesto a Giorgio ma i Morish ma gli uti a ricordare perché i Morish gli feci vedere anche la lettera e lui ridendo mi disse va lo ti ricordi va ma cosa il marito di Eter è un reggente Morish sì infatti io ricordo un'intervista proprio dove c'è anche suo marito che parla in inglese che lui diciamo è americano ma marocchino cioè di nazionalità marocchino-americana con passaporto americano parla benissimo l'inglese e si parlavano e si parlavano a distanza erano in una zoom con altre amiche che parla un'altra amica di Eter che partecipava e parlavano proprio di questioni legate un po' giuridico spirituali ma comunque ho presente di chi parli ecco esatto e riferisci a lui sì una delle informazioni e l'altra che mi confidò mi disse Eter non era per niente d'accordo come si va perché le parole di Eter sono state non è quello che ho pensato io sì perché lei non ti direbbe mai di no cioè Eter non è una donna non può capite non può dire no tu questo non lo fai proprio perché tutta la sua azione si basa sul fatto che questa è una realtà dove niente è niente non è permesso e lo vedete cioè siamo arrivati a fare cose assurde ok quindi mai Eter direbbe no non va bene quello che stai facendo ma l'accezione di Eter fu sì ma non è quello che ho pensato io e infatti lei non aveva pensato a questo aveva pensato la ridistribuzione senza vincoli e è un po' quello che stiamo cercando di fare noi esatto direi adesso dove ti serve e come ti serve direi adesso di passare a questo ecco visto che abbiamo esaurito mi sembra l'argomento alla grande ne abbiamo parlato anche abbastanza all'inizio però era giusto farlo perché era una delle cose che c'eravamo ripromessi di fare già da tanto tempo e così abbiamo creato l'opportunità stasera e ripeto mi dispiace che non ci sia stata la presenza anche loro perché sarebbe stato più interessante direi dire anche la loro opinione ma ripeto sono stati invitati ma hanno declinato allora io volevo portare una testimonianza di quello che ha detto Barbara prima riguardo i SIVAC perché ho conosciuto una coppia che mi aveva cercato per fare i documenti del Noyer i documenti OPPT quindi i primi quattro doc di Ether perché non capivano come andavano compilati e dopo neanche un mese che li ho rivisti mi hanno parlato appunto che loro ormai avevano deciso di entrare nel SIVAC e quindi mi ringraziavano per quello che gli avevo insegnato e basta perché comunque questi quattro documenti loro li utilizzavano comunque ma avevano deciso comunque di far parte del SIVAC allora io curiosa ho chiesto che cos'era che cosa comportava questa cosa e mi hanno detto che per entrata solo per entrare bisognava pagare mille o 1200 euro quindi questo lo posso confermare ma la cosa che mi ha lasciato stupita e senza parole è che mi hanno detto gli ho detto ma che cosa servono questi soldi cioè perché in realtà per noi è tutto gratuito anche i documenti come avete visto li potete scaricare e fare in gratuità non capisco perché bisogna pagare e loro mi hanno detto una cosa che davvero mi ha lasciato senza parole è perché se avessimo bisogno c'è un avvocato che ci accompagna in tribunale e ci aiuta a difenderci al che io vabbè non ho più detto niente ho detto forse non è chiaro cos'è l'autodeterminazione perché secondo me se usate un avvocato andate in delega ah ma lui conosce bene le leggi quindi a chi potremmo affidarci se non a un avvocato e quindi pagavano questa cosa anche nel caso avessero avuto delle vessazioni questo avvocato li avrebbe accompagnati il sostegno e stava lì a insomma a dargli una mano a fargli capire queste leggi quindi questa cosa qua mi ha lasciato alquanto perplesso ho detto vabbè fate come volete io preferisco l'autodeterminazione dove non delego più a nessuno tutto lì incredibile questa testimonianza comunque diciamo dà un'idea dello stato di cose insomma perché ricadiamo sempre là nella delega e nel considerare l'uomo incapace di badare a se stesso quindi ritorniamo nel sistema in questo modo nulla a che vedere con l'autodeterminazione l'avvocato e il tribunale è ovvio che sei ancora nel sistema però non l'hanno capito questi soldi loro li hanno pagati molto volentieri ho detto vabbè poi non li ha pagati uno li ha pagati sia il marito che la moglie quindi per ognuno 1200 euro e questo era già due anni e mezzo fa quindi mi immagino adesso intanto Barbara ti ringrazio ma non ho capito bene quando parlavi che UCC è a nome di Eternal Essence nei documenti della procedura allora cos'è UCC aspetta ti rispondo a questa se mi permetti allora cos'è UCC UCC è un codice ma è di proprietà una royalty ok vuol dire che è di proprietà di qualcuno perché perché è di proprietà del Vaticano perché era la Bibbia un po' ok un po' rivisitata un po' rimescolata preso il passo lì preso il passo là e è una norma internazionale importantissima non è che puoi chiudere una norma perché è una norma ok cosa puoi fare puoi mettere quindi togliere la proprietà di quella norma a chi ha abusato e metterla a nome di qualcuno che sai che non ne abuserà mai anche perché siccome non è in applicazione sono solo dentro la SEC ma in applicazione di tutto il mondo allora a questo punto se non lo applichi dentro la SEC che è impossibile ve lo dico è impossibile perché tutto dentro la SEC tutto il mondo finanziario economico l'economia reale è un'altra roba ok però economico inteso come scambio di merci ok politico e anche religioso è dentro quel contenitore lì quindi cosa ha fatto Ether ha detto nell'eventualità che qualcuno venisse in mente di rifare tutto da capo stavolta le royalty le pagate a Eternaless quindi se a oggi tutte le volte che hanno usato CC dovrebbero pagare le royalty a Eternaless capite quindi cosa ha fatto Ether ha detto questa norma siccome non gli posso da poco ancora perché tra l'altro è la norma con cui io agito perché Ether ha agito in UCC ha agito da dentro ha chiuso tutto da dentro non da fuori da dentro per questo ha depositato il tra quella norma attraverso la quale la procedura PPT è arrivata a conclusione non poteva essere annullata perché altrimenti Ether avrebbe annullato quella norma lì ma anche tutta la procedura capite che sarebbe stato un autogol così come sarebbe stato un autogol annullare la Comolo che è la base di UCC allora cosa ha fatto ha messo la Comolo sotto lo PPT UCC filing e lo scrive eh ragazzi non lo dico io lo scrive e lascia UCC a Eternal Essence dov'è l'errore umano quello di pensare che siccome ha lasciato UCC a Eternal Essence Eternal Essence lo può usare capite Eternal Essence lo deve solo custodire perché non nessuno mai più lo usi eh però ti volevo chiedere ma Eternal Essence quindi con l'IM agente autorizzato pro se pro per non utilizza UCC cioè il noi è per conversare con il sistema che usa l'agente autorizzato pro se pro per non lo fa sotto la norma UCC no no allora attenzione brava bravissima questa è una domanda che mi piace tanto perché chiarisce un punto che cosa abbiamo fatto noi abbiamo fatto un reclamo di un diritto lasciato da UPPT ma la nostra quando noi andiamo a citare UCC non è che citiamo le norme dell'UCC noi utilizziamo due parra tre norme base si chiamano principal agent doctoring di UCC che sono UCC 1308 senza pregiudizio UCC 103 ok usiamo questi 305 ma perché per far riferimento per loro a quelle che sono le normative che loro devono rispettare ma noi non facciamo riferimento all'UCC inteso come registro UCC cioè come norme UCC noi facciamo riferimento alla procedura di ETH dentro UCC la nostra base giuridica attenzione non è UCC la nostra base giuridica è il diritto naturale noi facciamo riferimento alla procedura UPPT perché è ripristino della legge naturale quindi giuridicamente è un punto di inizio di nuovo di quella legge che non ha mai smesso di funzionare ma che giuridicamente è stata sorpassata usurpata ripeto dalla DOD quindi dalla Doctrine of Discovery quindi stiamo parlando di Nicolò ve lo ricordate quel Nicolò famoso della seconda bolla stiamo parlando di quel punto della storia lì che è quello che noi portiamo comunque come storia di cosa è successo ma quella legge lì ha usurpato tutta la legge naturale su tutto il pianeta oggi quando si dice non solo nulla è annullata ma anche rigettata cioè no attenzione questo è importantissimo allora Ether non ha ha usato UCC perché era l'unico modo per precludere loro stessi dall'interno ma perché poi ha messo UCC al nome di Ternalasset A perché non lo poteva chiudere e B perché almeno sperava almeno sperava che nessuno lo avrebbe mai più usato se abbiamo capito ok ti ho risposto ma sì grazie ma se non sbaglio non è stato creato UCC1 successivamente allora c'è UCC1 UCC2 UCC3 sono dei form sono un po' i form utilizzati per sono stati più che creati UCC1 UCC2 sono stati lasciati aperti i depositi l'unico luogo dove non si deposita più oggi è guardate un po' Washington DC che è esattamente il pubblico registro dove ha depositato Ether oggi non si deposita più lì e infatti depositano al contribution in Inghilterra perché non in Washington DC era lì la procedura perché lì proprio non si può più depositare quindi ecco qua che l'arcano è fatto perché perché era quello che dovevano fare dovevano chiudere tutti tutti gli UCC2 tutti dal primo all'ultimo e in ogni luogo in ogni e queste erano le disposizioni di Ether in ogni luogo entro tre mesi dovevano restituire tutto il mal tolto cosa che non hanno fatto ovviamente e che continuano diciamo poi a escogitare anche dei nuovi sistemi di trappole giuridiche eh già perché poi se ne sono inventate di ogni in questi anni quindi questa anche questa accelerazione forse anzi decisamente sospetta no nell'inventarsi allora perché stanno andando così veloci perché stanno inventandosi tutti questi modi proprio perché l'azione OPPT che sembra passata inosservata la maggioranza in realtà nell'ambiente finanziario passata inosservata per niente capite perché se guardate dal 2013 a oggi vi rendete conto le crisi bancarie quanto sono implementate perché loro non sono caduti in questi anni perché fanno gioco delle tre carte con i eh fondi tossici così no gli asset tossici cosa sono sono quelle emissioni che loro fanno per pararsi diciamo dalle dai fallimenti che poi si accumulano e è un po' come non lo so qui dalle mie parti si gioca a nanna re col bicchiere no nanna re sto alle tre io ti passo il bicchiere a te e ci abbiamo solo un bicchiere pieno il resto sono tutti vuoti gira che ti rigira finita la canzone a chi rimane il bicchiere pieno lo beve ecco i titoli tossici sono un po' così nessuno vuole bere da quel bicchiere però sono in giro quindi da lì già si comincia a vedere come si sono spostati sono andati a finire guarda caso la maggior parte nelle banche italiane poi finito le banche italiane siamo passati a quelle Santander la banca tedesca all'HBSB mi sembra che è quella quindi quella cinese e è il gioco che si stanno facendo adesso si stanno passando questi titoli tossici perché perché chi ce l'ha perché il sistema bancario è un cerchio è un circuito quindi pure che cade una cosa fanno loro intervengono gli stati sovvenzionano quella banca la fanno esistere ancora e di solito le grandi banche arrivano e la storbono così loro si parano da questi titoli tossici sperando che rimanga in mano il cerino qualcun altro si questa cosa poi l'abbiamo vista anche con Nino Galloni diverse volte in diversi interventi sostanzialmente come dicevi tu il circuito bancaio è profondamente integrato in una rete di crediti e debiti quindi queste acquisizioni di cui tu parli sono fatte in modo cautelativo per evitare di dilagarsi di questi debiti che farebbero crollare anche loro quindi tengono come dire la spazzatura sotto il tappeto ma questo gioco può durare anzi è già finito esatto perché è finito perché questi sette anni il covid era previsto sappiatelo il covid ve la ricordate l'agenda 20-30 attenzione non era l'agenda 20-30 fino a qualche tempo fa era l'agenda 20-50 no 20-30 20-50 come mai adesso è diventata 20-30 e non 20-50 perché questa previsione nella previsione dell'agenda il covid era previsto nel 2040 no? nel 2020 che è successo? perché so velocizzati così vedi il gioco non è soltanto quello che stanno facendo che è velocizzato è proprio tutto il fatto si è velocizzato perché prima avevano dei titoli che fruttavano nove volte reinvestiti nove volte quindi due milioni e mezzo di dollari e venivano reinvestiti per almeno nove volte quindi immaginatevi quanto vale il vostro bond oggi o meglio vale zero scordatevelo non è il nostro è della corporation e se andate a prenderlo dovete dimostrare di essere non il trust non banco barbara ma di essere la persona umana cioè quella che è beneficiaria di quel trust sempre persona fisica sempre sempre finzione giuridica no scusate ok ma oggi se abbiamo capito l'azione OPPT quel trust è nullo è annullato ecco perché hanno velocizzato perché non hanno più gli ingressi che avevano prima sì continuano a usarli a transarci ma a livello energetico tutte le volte che loro transano è meno 10 miliardi energeticamente non riescono più a sostenere proprio manco con tutto la massa che gli dà ragione capite ecco perché non servono i numeri i grandi numeri ma serve la gente determinata quindi covid è diretta situazione di OPPT perché prima ci guadagnavano poi trust annullato asset annullato che faccio li ammazzo tutti beh pochi li levo da torno intanto guadagno soldi con le mascherine con quello e quell'altro e poi adesso la sanità si vera di tutti gli effetti avversi che non c'hanno nessuna correlazione giusto così capito insomma questa storia dei Sivac mi sono detto ma come mai sono rimasti solo questi italiani magari lei l'ha anche spiegato non lo so ma siccome in origine Ether pensava di usarli per fare la transizione diciamo per ridistribuire questa montagna di soldi detto in parole povere allora mi sono detto ma questi qua praticamente esistono perché ho visto anche che hanno scritto una roba a Trump non molto tempo fa quindi in qualche maniera ci sono cioè è un'associazione non so come chiamarla che c'è però è registrata a Washington DC quindi è una cosa ufficiale diciamo allora mi sono detto ma se noi avessimo spedito tutti questi nostri documenti anche a loro no per dirgli oh guarda che gli IAM ci sono esistono veramente non è che voi state là e pensate boh non succede niente chissà che cosa fanno poi non lo sappiamo allora ho pensato ma se noi gli inviamo i documenti gli diciamo oh voi avete una missione da fare e noi come IAM che vi facciamo vedere che esistiamo ci siamo quindi il numero c'è allora datevi da fare affinché quello che ETH aveva detto che dovete fare succeda questa era la mia anche semplice no cosa per cui ho pensato ma mandiamogli questi documenti a loro cerchiamo di fargli capire che loro sanno dare una mossa perché non è che esistono come istituzione così campata per aria mi sono scritto a Washington DC come io mi sono scritto alla terza elementare cioè tu hai un compito se esisti e non sei sparito quel compito lo devi portare avanti però magari l'hai già spiegato non ti so che dire no 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 non l'ho spiegato allora no è una tua è una tua in questo momento proposta no? una proposta sì sì allora incontrarli vederli parlarci diciamo non si fa queste cose nelle banche se ci riesci te a parlarci a vederli io non ci sono riuscita ah in tre anni non ci sono riuscita ne a parlarci veramente perché l'ultima l'ultima conversazione è quella che vi ho detto e siamo al 2020 non a oggi prima dell'ottobre 2020 perché poi l'incontro che io avevo organizzato e che si è tenuto a Perugia il 30 ottobre del 2020 non li ha visti partecipi nel loro nella GST Virtual Bank ok quindi era un incontro super informalissimo Antonio perché non c'era nessuna sovranità c'erano tante sovranità che si sedevano e si domandavano e mo? che facciamo? ormai è diventato un like motive no? ci sto provando in tutti i modi ma tutto il popolo ci sta provando perché questa proposta è di nuovo di cercare di unire ti faccio due domande il popolo ha mai detto non puoi aggiungere un indirizzo? no tu puoi aggiungere nelle tue nei tuoi invii tutti gli indirizzi che ritieni necessari per te quindi se tu oggi puoi fare questa prova e mandare tutta la tua documentazione al SIVAC National Italia lo puoi fare e qui entra in merito la mia è individuale questa cosa ok? non so sicura di quello che ti sto dicendo ti dico che ti diranno immediatamente che se non sei dentro il SIVAC non sei valido non hanno valore se non li hai depositati dentro la SEC non valgono niente non riconosceranno il tuo IEM perché? perché non l'hai depositato dentro la SEC non solo non potrai essere parte del SIVAC National Italia se non pagherai la quota di ingresso dei mille e passa euro domanda ma quando mai Ether avrebbe lasciato fuori anche un solo uomo che non aveva mille euro se lei vedeva tutto come un valore di dieci miliardi a testa però provaci provaci ma io non so tu mi dici di questa cosa ma tu sei riuscito a capire che ci avranno una scheda d'accesso a questo punto certo devi fare l'iscrizione allora per fare l'iscrizione devi avere due cose devi avere studiato tutta la procedura OPPT la devi sapere a mena dito perché a me Andrea al tempo mi disse tu entraci nel SIVAC perché te comunque la procedura la conosci quindi non c'è bisogno che la studi perché a buona parte della documentazione ti ripeto del SIVAC e tutto quello che è interno non esce da lì non si può vedere a meno che tu non entri e diventi un member attenzione che non vuol dire consiglio d'amministrazione perché lì c'è un consiglio d'amministrazione e poi ci sono i member cioè i membri di quel consiglio di quel SIVAC che non sono chi lo guida c'è una distinzione ok c'è il consiglio d'amministrazione come le le associazioni culturali no c'è l'associazione culturale è di tutti i soci ma all'interno dell'associazione culturale c'è un consiglio d'amministrazione un presidente un vicepresidente un tesoriere e tot consiglieri giusto? ecco questo è quello come funziona il SIVAC quindi se tu entri nel SIVAC non entri come pari entri come membro ripeto devi sapere la procedura a cui ti ha menadito e poi devi avere 1100 euro o 1800 quanti so ce li devi avere perché se no non ti spettano i 10 miliardi beh diciamo che vista la la sproporzione uno dice vabbè investo 1000 e prendo 5 miliardi ma ti rendi conto è come dire io ti faccio guarda è la stessa cosa Antonio guarda la logica è schiacciante è la stessa cosa del dirti io sono una banca che fa moneta scritturale io emetto moneta scritturale anzi siccome la mia procedura è un po' strana facciamo una cosa vieni io ti faccio trovare un ufficio dove tu puoi fare la procedura aiutato da qualcuno però voglio 50 euro per questa cosa e uno dice va bene perfetto ottimo fai scritto ti pago con la scritturale no voglio gli euro no aspetta fammi capire aspetta ma come facciamo tutto questo per la scrittura per mostrare no che la scrittura viene da nulla poi però da meno voi 50 euro di scritturale voi 50 euro di carta eh ma scusate ma queste ma queste che roba è questa cosa ma che roba è attenzione perché gli autodeterminati sono quelli che devono stare più attenti io lo dico in continuazione perché noi siamo quelli che ci definiamo custodi di questo pianeta se io affermo di essere la regina Elisabetta e lo affermo dentro sta sala ci fanno due risate ok e è finita la storia ma se io vado a Buckingham Palace e gli dico io sono la regina Elisabetta quindi mi arrestano se me va bene ok quindi attenzione a fare delle affermazioni perché devo poi poterle sostenere e devo essere coerente fino all'ultima virgola perché le leggi naturali le leggi universali non è che dice ma chi è Dio quelle leggi lì sono Dio perché le ha create per fare in modo che tutto sia in ordine quindi è un po' difficile chivarle capito un po' difficile molto difficile sì sì ma infatti questa storia del Sivac è un po' un po' stramba perché a un certo punto si potrebbe anche fargli un remedi anche loro ma dice voi non avete fatto quello che dovete fare vi licenziamo e non se ne parla più ecco questo è un altro tipo di proposta voglio dire che ti dico che non sei il primo che me la dice non sei il primo questi perché iscritti sono iscritti ufficialmente sono ufficiali non è che questi chiappono i soldi magari di straforo da quello che esce fuori così dalle voci di corridoio perché solo quelle possiamo avere perché non è detto che siano vere non è detto che siano vere hanno aperto una banca pure noi invece si stiamo dedicando ad aprire la tesoreria della nazione quindi approfitto per fare una scivolata nell'altro argomento di cui dobbiamo parlare che è proprio che cosa fa sta nazione cosa ha fatto sta nazione si sta organizzando lo vedete che ci stiamo organizzando i concili le sovranità stanno partendo tutte le sovranità sono già partite tutte le sovranità ma non solo siamo nella logica abbiamo messo in tutto il valore al centro abbiamo fatto un certificato di valore dove abbiamo fatto concluire tutto il valore di ognuno di noi bene adesso quello è la base giuridica perché l'abbiamo inviata a tutto il sistema bancario attenzione loro dovevano almeno su questo gli conveniva rispondere perché ci potevano dire ma di che vi state a parlare non hanno risposto questo per loro lo dice il codice delle banche è accettazione ora quello che noi stiamo cercando di fare e stiamo portando ormai a termine a brevissimo a termine e chi mi dice a brevissimo lo dicevate dall'inizio sono passati tre anni la risposta è ma ne sono passati tredici anni veramente e ancora siamo qua evidentemente non c'erano le condizioni giuste per fare questo no? quindi quello che stiamo facendo è portare a termine l'azione di OPPT e mi dispiace sottolineare che anche se il Sivac Nation è stato depositato nel 2017 l'unico vero reclamo di OPPT è stato fatto dal popolo in legge naturale come ha fatto Eder in legge naturale c'è andata in galera eh ragazzi ma vabbè forse non fa parte di questo Zoom chiedete appunto che situazione c'è lei adesso dove sta che fa allora che so io in California sottoposto a non so a restrizioni allora ti posso dire quello che so io che è in California e che è sotto sorveglianza strettissima come prova a muoversi è sotto minaccia che gli uccidono tutti e quattro i figli e sinceramente visto tutto quello che ha fatto reputo che sia il caso che sia ferma lì dov'è seconda seconda cosa che vi dico questa è più una roba di Barbara avendola anche conosciuta non dal vivo per mia sfortuna ma avendoci parlato diverse volte Eder quello che doveva fare lo ha fatto il resto non spettava a lei perché altrimenti sarebbe stata il nuovo imperatore del mondo e doveva fermarsi stare ferma e quindi non tornare lei a fare le azioni ma lasciare che fosse il popolo a fare one people a fare le azioni perché? perché la liberazione dalle catene è qui dentro è la delega che non doveva più esistere quindi se fosse arrivata Eder adesso saremmo stati tutti a chiedergli adesso che facciamo? adesso che facciamo? che dobbiamo fare? mentre nella realtà che cosa abbiamo fatto? Antonio tu ci sei da tantissimo tempo lo sai che cosa abbiamo fatto? abbiamo affrontato ogni volta le cose che arrivavano ogni documento è nato sull'azione di prima beh abbiamo fatto quello e che succede? che moda fa? questo l'ultimo documento che noi abbiamo fatto è stato il deposito del 13 luglio ordine esecutivo dall'uno secessione fine lì ci siamo ecco being and doing estente poi facente mi autodetermino come popolo perché? perché one people è un popolo dicevo che è noi ma che è noi ma che ne so ma perché l'hiamo chiamato noi ma che ne so non me lo dite non lo so è arrivata così è arrivato noi è è arrivato questa cosa qua e fondamentalmente io oggi mi domando e me lo sono domandato in questi anni per quale motivo non l'ho chiamato one people perché ma in fondo è one people c'è sempre stato one people perché però l'ho chiamato noi perché mi è venuta sta cosa perché OPPT e quindi one people è stato talmente tanto manipolato che se la gente avesse sentito one people I am oppure avesse sentito inizialmente subito OPPT sarebbe scappata ho parlato grazie l'ha fatto lei anche esatto ho parlato con in una zoom con una donna austriaca questa donna austriaca è stata è in carcere da diversi anni e non ancora ha finito tutti mi dicevano eh ma ci devi parlare ha usato OPPT ci devi parlare perché così capiamo dove hanno sbagliato dove ha sbagliato come l'hai usata perché è andata a finire in carcere bene io l'ho ascoltata una donna veramente in gamba veramente molto forte bene che ha passato un'esperienza non ve lo dico ve lo potete immaginare non ha mai usato un documento PPP ma quello che dice la gente è che ha usato i documenti in PPP mai usato un documento in PPP vogliamo parlare delle terre planetarie parliamone ah da qua da di là faccio solo un nome ma di un paese non perché ma perché è quello che ci ha dato la prova provata che è così Argentina tutti dicono che ah OPPT qui ha fatto un casino quello là quell'altro non va bene quell'altro non è passato OPPT non funziona finalmente abbiamo conosciuto chi lì ha usato gli strumenti e abbiamo visto i suoi strumenti non se ne fa manco menzione di OPPT neanche le terre planetarie non tutte per carità usano i documenti OPPT ma dicono che OPPT non funziona ma ve lo siete domandati mai perché si chiama delega a qualcuno la colpa la devo dare a qualcuno la devo dare perché se no è colpa mia è un casino se è colpa mia mi tocca più a me la risposta vita è tutta colpa tua si sa no? in generale è sempre colpa mia qualsiasi cosa succede nel mondo ultimamente fa via va bene va bene ormai la prendo a ridere e ringrazio voi non avete idea quanto ringrazio di questi tre anni no ma infatti lo sai mi conosci che a me piace ridere mi piace giocare mi piace scherzare quindi OCPT a oggi lo abbiamo usato noi puri noi l'abbiamo usato ce l'ha detto un signore qualche zoom fa un signore che io quando ho visto tra le nostre fila ho detto al fine oh wow non ci potevo credere è tra le nostre fila e sono molto contenta che c'è lo nomino perché è un uomo meraviglioso si chiama Santo Romano che è un uomo che ha avuto un'esperienza della sua vita molto forte è stato in certi luoghi in certe situazioni si è interessato di una delle modalità di sovranità che ultimamente fanno riferimento OCPT ok come base giuridica come noi bene ce l'ha detto proprio chiaro e tondo gli unici puri di OCPT siete voi e quindi dopo aver visto che nessuno porta il messaggio di OCPT corretto naturalmente trasparente ora sono dove è l'unico messaggio trasparente vero guardate che si fa presto a vedere se è vero oppure no che abbiamo seguito le indicazioni di Ether ci sono i documenti se non ne avessimo seguiti ma quelli che li stanno studiando poi la terra siciliana veramente li ha studiati li ha anche approfonditi è andata a cercare abbiamo eseguito il compito perché non arriva ancora il flusso di valore ma veramente dite che non arriva ma come fa a non arrivare come fa a non arrivare è già qui non è spiritualmente basta è anche matericamente è che noi pensiamo che ci devo avere 10 miliardi e quindi io ho una sicurezza guardate come lavora la mente umana ho una sicurezza che quando ce l'ho quei 10 miliardi dentro il garage lingotti d'oro e argento capito sto a pace sto a posto posso farmi una risata insieme a te Antonio tu c'hai il tuo orto vero? io ci faccio una zappa anche una vanga esatto pensa quante quante volte hai regalato la verdura praticamente ogni volta che ti avanzano le zucchine giusto? che fai le lasci lì sulla pianta a marcire le tue ok? a voglia adesso arrivo io sono non lo so uno che ti sta tanto 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 antipatico uno qualsiasi non voglio sapere nomi ma proprio c'ho una valigetta con 10 miliardi mi servono le tue zucchine attenzione se te quelle zucchine non me le dai quella valigetta lo sai quanto vale? niente no ma io se vieni con la valigetta quei soldi non te le do le zucchine bravo infatti per questo ti ho fatto l'esempio e lo so che non me le dai le zucchine perché te le regali mica mangio l'oro io cioè bravi non si mangia l'oro il valore non arriverà esclusivamente nell'idea umana con i soldi allora potrò star tranquillo ci stanno facendo mangiare visto che Gio anche questo è argomento di cui abbiamo accennato le parine con i grilli stanno mettendo dentro a tutti gli alimenti tutti ci sono già senza parlare di tutti gli alimenti che non sono specificati OGM ma lo dà adesso sì sì ma lo so lo so la domanda non è spontanea la domanda è finita non c'è nessuna domanda dove deve arrivare il valore il valore è la terra è l'acqua e è l'aria il valore è l'umanità che si stringe e protegge la sua prole ecco se li riprendi senza pagare questo è il punto bravo c'è una transizione dove la nazione sofferirà perché è la nazione allora la domanda che tu mi hai fatto l'altra sera è corretta tu dici ma non avevamo parlato di una tessera certo che non abbiamo parlato di una tessera abbiamo parlato di tante cose la tessera è stata una delle modalità con cui pensavamo si potesse realizzare perché siamo sempre lì siamo cresciuti nel frattempo abbiamo visto delle cose che prima non vedevamo siamo arrivati a questo certificato di valore tutti insieme e io lo ripeto ancora adesso il punto più alto di coscienza che ha raggiunto il popolo quel momento lì è stato il punto più alto a oggi la tessera servirà più? ma certo ma non come prima che dice perché ognuno ha il suo accesso al valore certo che ognuno ha il suo accesso al valore ecco e si va che lo spiegavano ti avrebbero dato tutti i 10 mila euro 10 miliardi subito? no perché ti faccio più male che bene non ti sto aiutando non ti sto aiutando no ma io non la vedo così no 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 aspetta finisco tu emetti il valore tu emetti il valore se tu l'emettitore di valore è di spontaneità quando tu lo emetti ce l'hai già ecco cosa servirà la tessera se servirà a emettere il tuo valore ma il tuo valore non è quello che pensiamo in tanti allora ah meno male adesso c'è il valore c'è l'accesso diretto al valore domani in mattina chissà che me compro perché non compreremo più niente capito non ci sarà niente da comprare perché qualsiasi transazione avverrà tramite la nazione sarà gratuità ci sarà scritto proprio gratuità vuol dire che appena loro le ricevono sono già bruciati questo valore diciamo pure in valuta è lì ma non è che io vado a prendermi ah oggi me l'avevo a prendere 150 milioni perché no perché me ne fregono cioè vado a prendere euro perché mi devo comprare il pane e la pasta e la tessera cosa ti serve per comprare il pane per la quotidianità non è che vado lì a prendermi e mi devo comprare il castello che me ne fregono il castello il castello non me ne frega niente a me di quelle robe attenzione il castello è quello che mi serve devo mettere la benzina quello è quando mi serve la uso come fanno tutti con quella cartelletta della banca vanno a pane gli mettono la cartelletta vanno lì mettono la cartelletta cioè sarà quello solo che ecco appunto io non è che ho fatto un deposito è già depositato io devo solo usarlo ma in quello che mi serve a me non che stravolgo tutto voglio diventare uno sure non me ne frega niente no no ma infatti questo non è neanche previsto è rimasto non è neanche previsto lui lo sa bene nell'UV Change come sappiamo che non esiste l'accumulo così come esiste anche un'etica nelle transazioni che deve essere considerata non è che vale per comprare armi o per fare operazioni speculative eccetera poi il stesso fatto che non sia previsto l'accumulo è un cambio epocale ecco vi posso far fare una risata ecco mio figlio mio figlio ha spiegato l'UV Change alla velocità della luce a Maria Cristina questi giorni indietro è passato aveva 10 euro in mano dei suoi dei mancettini quindi del suo accumulo allora che cosa ha fatto ha preso i 10 euro è andata da Maria Cristina e ha detto te li regalo e Maria Cristina ha detto wow grazie passati 5 minuti è tornato l'ha guardata ha ripreso i suoi 10 euro ha detto te li levo non li hai usati capite te li levo tanto non ti servono non li stai usando era vero in quel momento a lei quei 10 euro non gli servivano gli servivano magari domani per mettere la benzina alla macchina ma andò in quel momento beh la valuta a tempo è una cosa che vogliono fare però è inutile che ci sia no no la valuta a tempo non esiste quale valuta a tempo no solo un'ultima domanda mi puoi rispondere proprio velocemente sì o no avevi parlato che Kaleb e la Anna Von Reis stanno insieme in Austria a fare che cosa è una cosa di autodeterminato o una cosa ufficiale normale corte di Vienna la corte di Vienna tribunale di legge il comolo come la CLC come la comolo è una cosa di autodeterminati non è una cosa dello Stato insomma no è una cosa di autodeterminati ma sempre dentro la corporation sì 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 è come il tribunale cioè quando tu devi aprire comunque avere dei timbri devi depositare la CLC non è una cosa dello Stato è una cosa che hanno fatto degli autodeterminati adesso non so bene la loro Stato allora la CLC da quello che so io arriva da un qualcosa da una vecchia dalla magna carta da una vecchia anche documentazione del 1400 mi pare di ricordare però quello che mi stupisce è che le corti di comolo e questo lo dice una sentenza della comolo cult se volete io ve la giro ve la guardate questo pezzettino in special modo dice che non esiste uomo vivo o così dice non esiste uomo vivo se non è iscritto dentro una corte allora domanda da 100 milioni di dollari viene prima l'uomo o la corte perché così sembra che venga prima la corte certo e c'è un po' delle problematiche che vuol dire che allora se domani mattina la corte dice che io non so vivo non so vivo eppure qui autodeterminati di che tipo vorrei uscire no no era giusto così come posso rispondere a Barbara Gio sì sì torniamo poi diciamo al discorso no per fare una chiosa a quello che dicevi torneremmo al riconoscimento del principio di autorità che poi alla fine è riconoscere a un gruppo di individui per come abbiamo imparato nella legge naturale il diritto di esercitare la schiavitù nel confronti del resto della popolo e non esiste questo è furto di libertà di valore di qualsiasi cosa quindi e Marco Passio ci avrebbe da dire su questi furti no? ma ci dobbiamo avere da dire tutti al di là di Marco Passio che va bene diciamo ha sintetizzato una conoscenza che non sono sue come sappiamo è un compendio di conoscenze ma dobbiamo essere ognuno di noi portatori di questa della verità ecco senza dover affidarci per forza a Marco Passio o un altro studioso sì perdonatemi Barbara Barbara Strada ciao cara come stai intanto e dice se una donna non ha valore amore mio se non esiste una donna che non ha valore come non esiste un uomo che non ha valore il valore è solo l'esistenza è la vita se sei vita sei valore e quindi non c'è possibilità di discutere su chi ce l'ha o non ce l'ha possiamo discutere su chi se lo riconosce oppure chi si racconta di non valere niente su questo possiamo ragionare non certo sul fatto che qualcuno ce lo possa non avere non è proprio previsto non è possibile non è possibile puoi non riconoscerlo dentro di te verso te stessa e allora lì lì entriamo in un meandro che è quello della autodistruzione perché poi è quello che andiamo a fare no? ci autodistruggiamo comunque se posso dire una cosa effettivamente questi percorsi di autodeterminazione sono visti per la maggior parte di chi ci si avvicina per risolvere dei problemi vabbè quello è l'approccio che forse abbiamo avuto un po' tutti all'inizio però se rimangono soltanto come dire dei percorsi di tipo documentale non hanno alcuna cioè rimangono carta morta ferma lì che non serva niente e non ci consentono di evolverci coscienzialmente mentre la cosa più importante da fare innanzitutto conoscere la legge naturale capire che cos'è la legge naturale perché è a quella che noi ci a cui ci riferiamo quindi che poi è l'unica legge veramente esistente immutabile eterna che funziona per tutte le cose dell'universo e quindi conseguenza anche sulle nostre esistenze e quindi se non abbiamo la capacità di approfondire lo studio della legge naturale la determinazione è un passo che rimane incompleto monco cioè rimane soltanto una cosa documentale e basta che non ha poi tanto senso e quindi bisogna necessariamente fare questo passaggio di prese di consapevolezza e di studio della legge naturale la prima cosa da fare prima ancora che puoi passare alla parte documentale io l'ho capito appunto strada facendo all'inizio pensavo che fosse soltanto un aspetto puramente diciamo di contrasto al sistema attraverso i documenti attraverso un compendio di appunto pratiche documentali ma in realtà se si fa questo non non si arriverà mai a disinstallare quei programmi che abbiamo installati fin da piccoli e che facciamo fatica ancora oggi a come dire a toglierci dalla testa no e quindi ecco forse è bene per chi si avvicina all'inizio a questa a questo mondo dell'autodeterminazione è proprio cominciare a parlare proprio di legge naturale di questo ne sono più che sicuro ed è anche questo il motivo per cui ci siamo impegnati anche a fare divulgazione in questo senso e penso che insomma abbia aiutato molti a a chiarire tanti aspetti che magari sentivamo fossero verità ma che non avevamo non eravamo riusciti a collegare insomma i puntini a fare certe relazioni tra una cosa e l'altra eccetera anche per questo discorso di accesso diretto al valore Barbara per te magari è scontato parlare di valore no ma chi chi ha in mente il valore inevitabilmente cade nell'equivoco della valuta no si pensa sempre alla valuta qualcosa che si può estrarre dall'uomo rendere negociabile tra terzi è e questa cosa è una programmazione è la programmazione del dio denaro ce l'hanno fatta da qui è qui è una roba sistemica è un ingranaggio importantissimo forse è proprio il cuore di tutto l'ingranaggio se proprio la vogliamo guardare come fosse una macchina quello che ci abbiamo di pronto è proprio un ingranaggio e è l'ingranaggio più potente che va a infilarsi in quello che io queste cose le ho già detto mi ripeto ma allora noi abbiamo un istinto profondo che è quello della sopravvivenza questo istinto profondo è quello su cui il sistema basa tutta la sua ingerenza nella nostra vita è la paura di morire la paura di non avere da mangiare la paura di non essere di non arrivare di non essere in grado abbiamo tutta una serie di paure legate a questa roba qua alla sopravvivenza la sopravvivenza biologicamente parlando arriva da qua dal cervelletto chiamato anche cervello rettiliano perché perché ha le primi genie proprio quelle il distinto di sopravvivenza allora il sistema immediatamente attiva un algoritmo l'algoritmo in poche miserissime parole è conformati e esisti non ti conformi muori vedete sotto il covid come sono stati bravi conformati schierina tutto il resto delle attrezzature e esisti puoi andare al bar puoi fare quello puoi fare quell'altro non ti conformi allora non esisti te il cappello prendi fuori te lo porti via te non lavori più questa è la base su cui il sistema appoggia tutta la programmazione perché la programmazione umana avviene attraverso due modalità sofferenza fisica sofferenza psicologica emotiva e ecco qua che non sono adeguato io comincio ad avere paura di non riuscire a mangiare a vivere e allora faccio tutto quello che è il mio potere perché questo parte e dice adeguati poi se non ti adegui sei un po' strano per la società diventi la pecora nera del branco che poi ve lo dico lo posso fare un segreto le pecore sono veramente nere quelle giuste sono nere non so bianche sono nere no questo discorso che facevi tu mi faceva venir in mente quello di cui abbiamo parlato anche a decollatura quest'estate tra anarchia e statalismo perché in realtà poi questa dicotomia che ritroviamo nella società è tra chi riconosce l'autorità del potere quindi lo Stato cioè appunto come dicevo prima un gruppo di individui che si è autoproclamato promulgatore di reggi dispensatore di diritti o addirittura di far diventare delle azioni immorali come dei diritti e viceversa togliere i diritti lì che sono morali inalienabili all'uomo alla donna ai bambini agli anziani di tutto il mondo senza averne l'autorità eppure tutto questo viene considerato come legittimo dalla stragrande maggioranza della gente ed è quello che appunto si definisce statalismo che è la cosa che appunto crea tutti quei meccanismi di scavito ai quali siamo purtroppo stati abituati a conformarci e ad obbedire molto più difficile era la strada dell'anarchia che sappiamo non essere il caos non significa caos anarchon vuol dire senza padroni quindi essere liberi e quindi tutto il contrario del caos perché il caos viene generato dalla dalla menzogna quindi dalla senza verità dall'azione immorale che ne deriva che poi causa danno ad altri esseri senzienti e quindi il caos che può voler dire in estrema razza anche la morte nella migliore ipotesi la negazione dei diritti quei diritti naturali che tutti abbiamo in eredità ricevute dal primo creatore con un sistema di eguaglianza dove non c'è chi ha più diritti o meno diritti come invece succede nella legge dell'uomo che è fallacia che come dire è fatta di relativismo morale che è fatta di contingenze legate al momento storico alle convenienze di alcune minoranze portatori di interessi e così via cioè la giustizia stessa è per sua ammissione la giustizia dell'uomo della legge dell'uomo è qualcosa che contempla svariati interessi quindi non è la ricerca della verità non è la giustizia è per propria ammissione una contemplazione dei vari interessi in gioco tra le parti quindi la verità che nesce fuori dal sistema giudiziario è qualcosa che non ha nulla a che vedere con la verità infatti si ammette che esiste una verità processuale e una verità reale che non appartiene all'ambito del processo l'abbiamo sentito molto spesso queste cose la verità processuale come se esistesse un qualcosa che si può definire verità processuale cioè una roba eppure tutto questo viene considerato come accettabile come l'unico via possibile per una convivenza civile che è assurdo proprio riuscire a capire queste assurdità non è facile perché tutto sommato ripeto siamo vissuti per decenni in questa logica senza neanche accorgerci dell'assurdità proprio invece studiando la legge naturale essendo nella determinazione man mano ci siamo accorti di queste incongruenze e siamo cresciuti moltissimo in pochissimo tempo almeno questa è la sensazione che io ho su di me e che vedo anche nelle anime intorno a noi in questo percorso che stiamo facendo da qualche anno no Barbara? direi di sì non solo siamo cresciuti tantissimo in questo momento ancora non ci vediamo quanto siamo cresciuti tantissimo cioè la percezione della crescita c'è ma non abbiamo la percezione dell'ingerenza che questa crescita c'ha verso l'esterno perché perché come giustamente Passo ci ricorda la legge naturale ci vede ci sente ci percepisce ci attraversa non c'è modo di scappare a questa legge quindi ora abbiamo capito che eravamo in dissonanza con la legge eravamo proprio contro noi stessi proprio contro quelle leggi adesso che noi ci stiamo allineando diventiamo sempre più coerenti tra quello che diciamo quello che facciamo quello che pensiamo sempre più coerenti con la vita non abbiamo ancora chiaro che se noi diamo uno le leggi naturali non ci danno uno ci danno tutto quello che quell'uno ha smosso quindi ancora non possiamo sapere quanto abbiamo smosso perché magari stiamo semplicemente vedendo cosa ci torna no? quindi c'è tornata una grande crescita c'è tornata magari qualche azione non è andata male ma invece qualcuna è andata bene la soddisfazione di vederci in piedi la quella autorità che noi inizialmente portiamo fuori perché ah ma tu che poi è diventata autorevolezza no grazie no? e questo questo è tutto quello che ancora non vediamo cioè quanto noi con quelle nostre azioni anche piccole abbiamo smosso intorno a noi torna torna tranquilli che tornano i torni contano sicuro perché con le leggi naturali i torni contano non si scappa da questa cosa non si scappa quindi sì ci dobbiamo ancora dobbiamo ancora vedere quello che abbiamo quanto abbiamo mosso quanto non che cosa abbiamo mosso la voglia se abbiamo mosso una cifra ma quanto di quello che abbiamo mosso come 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 un terremoto no? sì c'è un epicentro dove questo terremoto fa un movimento sul sul torno ma poi c'è anche tutto un movimento ondulatorio a cui noi non abbiamo ancora assistito io vi ringrazio è stata una serata molto intensa interessante e quindi do appuntamento al prossimo lunedì di Teresa Siciliana ringrazio Barbara per essere qua grazie Barbara e grazie a noi grazie a noi io ringrazio tutti grazie a noi andiamo avanti non ci fermiamo assolutamente e ci vediamo domani sera su assolutamente d'accordo grazie a tutti buona serata ciao grazie ciao 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 ciao